Buonasera a tutti, benvenuti a questa importante serata divulgativa, informativa e formativa. Grazie a tutti per questa attesione e partecipazione. Come sapete è una serata dedicata al workshop di introduzione e formazione sulla tecnologia S-Drive ma soprattutto sull'interpretazione del report. Con noi, oltre a Antonio, avremo l'onore di avere anche la dottoressa Simona Nava che ci darà una mano nella traduzione con Marco Stenton. Grazie di cuore, Simona. Benvenuti a questa serata. Ora introduco l'argomento perché so che molti di voi, alcuni di voi sono nuovi anche se questa serata è soprattutto dedicata alla formazione per chi ha S-Drive. Alcuni mi hanno chiesto il favore di capire come funzionava S-Drive e li ho fatti partecipare, quindi mi permetto di fare un 15-20 minuti di introduzione molto molto breve per evidenziare alcuni passaggi importanti. Diciamo che vado molto veloce rispetto a quello che sapete che siamo abituati a fare. parliamo di epigenetica, parliamo di la mappatura epigenetica dei fattori che possono interferire con la salute delle nostre cellule. Vi premetto subito che l'S-Drive non è uno strumento di diagnosi. La diagnosi la fa il medico con tutti i vari passaggi. Vedo che è arrivato anche il grande Bartolomeo Allegrini, benvenuto tra noi. Quindi premetto che il dispositivo S-Drive non è uno strumento di diagnosi. Il diagnosi la fa il medico, i consigli e la nutrizione è compito del nutrizionista o del medico nutrizionista, i consigli delle persone che utilizzano l'S-Drive da un punto di vista del benessere delle persone. S-Drive si occupa della salute della cellula, Cell Wellbeing, vuol dire proprio costruire la salute delle nostre cellule. E a questo proposito, per costruire le nostre cellule, dobbiamo partire da un presupposto. Cosa serve alle cellule e cosa danneggia alle cellule. Allora, immaginate per un attimo. Se noi avessimo veramente la possibilità di incominciare a prendere e avere chiaro quello che serve a una cellula, cominciare, come sapete, dal nostro mantra, che è quello dell'ossigeno e dell'idrogeno per produrre energia ATP, ma delle scelte consapevoli, che sono quello cosa mangiamo e cosa respiriamo. E quindi qui entriamo nel si salvi chi può, perché oggi, se l'impatto ambientale sta veramente condizionando la nostra salute, mi chiedo il professionista cos'è in grado di fare per capire cosa danneggi oggi la salute del suo paziente, del suo cliente. E a questa domanda mi rispondono ben in pochi, ma questo è ormai una realtà di cui parliamo. Pensate ai danni da Formula Mideide negli anni 80-90. Pensate da quanto noi stiamo danneggiando la salute delle persone con tutta la produzione industriale, molto velocemente tutti i fattori che condizionano la salute non si tiene conto però della carenza di ossigeno, non si tiene conto dei danni da campi elettromagnetici. Eppure le malattie iniziano a livello cellulare. Noi durante il concepimento scarichiamo un'app che è eredità epigenetica della salute dei padri e delle madri. Qui Simona potrebbe aprire mondo su questi fattori di interferenza prima, durante e dopo la gravidanza. Abbiamo fatto una trasmissione su Telecolor, andatela a cercare con la dottoressa Simona Nava e la dottoressa Monica Greco, proprio dove parlavamo di neurosviluppo, di impatto ambientale, di inquinamento. Purtroppo, legata all'inquinamento, ancora oggi, sì, qualche slide vedo, ah sai, la salute è condizionata anche nell'inquinamento. Ma poi non c'è un quantum, cioè una capacità di capire effettivamente in maniera personalizzata quanto questo può condizionare la salute delle persone. Io faccio sempre l'esempio dell'acquario dove noi viviamo, sia in casa che nelle città, dove questo sta togliendo ossigeno alle nostre cellule, intossicando le nostre cellule. Se voi volete unire l'inquinamento col cibo spazzatura, ecco, non ne usciamo veramente più. Quindi è veramente un'allarme sociale, è una pandemia. stiamo intasando la matrice cellulare che è ubiquitaria, come sapete, ma che proseguivamente si intossica e debaupera quel scambio di informazioni, di segnali, di nutrienti che deve avere a livello cellulare. E anche questo è un problema. E poi ha fatto una bellissima lezione il dottor Bartolomeo Allegrini proprio domenica a Bologna durante il congresso dove è proprio evidenziato il drenaggio cellulare, il drenaggio della matrice. Allora partiamo da un presupposto perché parliamo di epigenetica molto velocemente. Noi siamo abituati, eravamo abituati a chiamare DNA spazzatura il 90-98% della programmazione epigenetica delle nostre cellule. E qui dobbiamo riflettere. Oggi sappiamo benissimo che il DNA non è il tuo destino, che c'è un accumulo tra stress, attività fisica sbagliata o sedentari e ritmo sonoveglia che sta diventando un grosso problema. E pensate al fabbisogno giornaliero. Ecco, qui vi voglio fermare un attimo. Perché voi che siete dei professionisti, dei medici, nutrizionisti, noi dobbiamo assolutamente mangiare per il nostro fabbisogno. Ma non solo di proteine, di zuccheri, perché il cervello consuma anche lo zucchero, di grassi soprattutto. Zuccheri, naturalmente, lo intendiamo quelli naturali, non carboidrati industriali. Però noi abbiamo, soprattutto se parliamo di vitamine, minerali, amminoacidi, abbiamo un fabbisogno giornaliero. Vuol dire che lo consumiamo ogni giorno. Quindi, se io faccio, vi faccio un esempio, faccio un esame del sangue, importante, fondamentale, per trovare un problema di salute, una malattia, guai. Ma se io faccio un esame del sangue per trovare delle vitamine e minerali, non è che se ci sono lì, allora ce l'ho anche dentro alle cellule. Non è proprio così. Anche perché quelle lì le consumo durante il giorno. E se io non le rientro d'un po', poi non ce l'ho più. Oppure non entrano nella cellula. Ma chi me lo dice se entrano o non entrano nella cellula? Ecco, vi voglio far ragionare solo su questo concetto. E poi dipende, bambini, uomini, donne, sono fondamentali i neuronutrienti. Ognuno ha la sua azione. E lo sappiamo, questo è parte di altri corsi, però vi voglio far riflettere sulle sostanze chimiche, gli idrocarbuli, le radiazioni, i metalli tossici. La domanda è cosa state facendo voi ogni giorno, che strumento avete a disposizione per capire se il vostro paziente e cliente è intossicato a sostanze chimiche o radiazioni o idrocarburi o metalli tossici. E l'altra domanda è se ci fosse un sistema, e voi lo sapete che c'è, ma se ci fosse veramente un sistema che in pochi minuti mi dà queste informazioni per farmi ragionare sul possibile stile di vita e di correlarlo all'anamesi e poi naturalmente altre indagini che uno vuole fare, ma comunque per focalizzare il problema. Sarebbe interessante? Sì o no? Questo è lo scopo della tecnologia S&D. Pensate, non c'è nulla al mondo che riesce a mappare i danni specifici di quella frequenza e quel danno al cellulare, al wifi, al bluetooth, al wireless, alla televisione. Ci sono ancora persone che dormono col cellulare in camera e la televisione è accesa. ed è un problema. E poi, quanto sarebbe importante per i nuovi conoscere se serve una B12 piuttosto che la B1 o la B2? Oppure servono tutte e tre? Oppure i minerali? Quale minerale ha bisogno quella cellula di quella persona? Non perché è di moda la vitamina D o l'omega 3. e quale acido grasso ha bisogno quella persona? La lipidomica della cellula. Sapete, ecco, già qui potete avere abbastanza chiaro quanto è importante anche per fare, per limitare la spesa di fare un esame dietro all'altro per avere un quadro che poi alla fine il quadro non è poi facendo fare tutti gli esami il quadro lo avete dopo 7, 10, 15 giorni magari anche un mese ma quella persona è la stessa persona se è vero che poi ognuno di voi parla di problemi a livello NEI psico-neuroendocrimologia c'è un problema emozionale in quel periodo è cambiato qualcosa è cambiata la dieta quindi avere un sistema come S-Drive che ci permette di avere subito un quadro un indirizzo una bussola per orientarci sui bisogni della persona e del paziente penso che sia veramente interessante anche sul sistema antiossidante sul problema del gas intestinale è chiaro che ci sono tantissimi esami e questo non toglie il fatto di fare altri esami ma ci indirizza all'esame più specifico giusto e magari prima si potrebbe iniziare a lavorare su quel paziente su quel problema in maniera urgente perché il paziente ha bisogno di migliorare la qualità della sua vita oppure di guarire e allora i nutrienti sono importanti dal punto di vista della segnalazione epigenetica sono importanti per capire se una persona se quella persona non dorme perché gli manca magari una possibilità di modulare la serotonina oppure gli mancano dei nutrienti specifici che possano aiutarlo a migliorare la qualità del sonno oppure c'ha qualche danno da campi elettromagnetici o intossicazione ambientale pensate basti pensare ai danni da campi elettromagnetici ma basti pensare anche al fatto del rilascio della melatonina eccetera quindi scelte consapevoli perché noi oggi non possiamo cambiare città lavoro e casa non è che se lo possono permettere tutti quindi dobbiamo rafforzare il sistema immunitario guardando quello che serve alle cellule e quello che serve e quello che danneggia le cellule quindi per togliere quello che sta danneggiando le cellule vi do questi dati questo è uno studio ormai del 2021 ormai insomma altro ieri per la scienza però guardate l'inquinamento ha un impatto sul decadimento cognitivo questo è uno studio importante che vi invito a leggere molto attentamente adesso non c'è il tempo però questo è per esempio delle società italiane medici per l'ambiente il presidente Roberto Romizzi inquinamento atmosferico salute il ruolo delle cure prossimità guardate dove stiamo vivendo ecco vi invito a leggere questo il rapporto dell'agenzia europea dell'ambiente esposizione a inquinamento atmosferico fumo passivo e quanti ancora fumano in casa o in macchina con i bambini radon raggi ultravioletti amianto altri inquinanti è all'origine di oltre 10% in tutti i casi di cancro in Europa costi economici stiamo parlando di 178 miliardi di euro solo nel 2019 e le cose non sono migliorate bisfenolo che sta veramente a cuore e io ho veramente ho accolto l'invito di rimettere questa slide così cara alla dottoressa Simona Nava proprio per il bisfenolo non ne parla nessuno eppure andate sul sito dell'EFSA questo l'ho trovato per tre Simona e guardate cosa mi dice dice che la votazione mi dice che hanno riscontrato possibili effetti nocivi al carico del sistema immunitario è inutile che parliamo solo di dieta e addirittura è un interferente endocrino a livello fetale oltre a tutti i danni del neurosviluppo tutti i danni in gravidanza tumori mammari obesità il bisfenolo contenuto in tutte le plastiche che utilizziamo da cui beviamo che utilizziamo per le merendine per tutti mangiamo una carta di credito a settimana di plastica secondo il CNR non i topolini e vi invito a riflettere sull'utilità di questo straordinario sistema che è S-Drive la capacità che ha questo strumento straordinario di mappare questi fattori compreso gli additivi alimentari per fermare questa strage degli innocenti perché siamo al 60% dell'infertilità secondo la società italiana di riproduzione umana e tutti ormai gli andrologi e ginecologi siamo 1.24 di numero per figli siamo un'analità bassissima nel mondo microplastiche nelle urine microplastiche nello sperma umano questo è un studio che è stato premiato uno dei miei più importanti studi a livello europeo pubblicato dalla società italiana di riproduzione umana siamo all'autismo 1 su 36 bambini allora dobbiamo utilizzare questi spot pubblicitari che io vedo sempre ai congressi il DNA non è il tuo destino ma quale cosa stiamo facendo per evitare che il DNA non sia il tuo destino del fatto che stiamo sprogrammando la vita di intergenerazione prima del concepimento perché fumano bevono si drogano dicevo l'altro giorno al congresso troppi ormai a 10 anni cominciano a fumare a 11 a ubriacarsi e a 13 a drogarsi scusate se sono forte ma oggi dobbiamo proprio fare presto partire dall'altre allo scherzo una malattia epigenetica ci sono ormai studi questo sull'invecchiamento guardate sull'epigenetica a 145 mila lavori in aumento guardate dal 58 oggi sugli studi sull'epigenetica su Pambet cosa è diventato e ancora si fa finta di nulla sui fattori epigenetici siamo già a 4 mila lavori malattie croniche siamo a 24 milioni di italiani che soffron malattie croniche allora possiamo riprogrammare le nostre cellule io penso di sì possiamo fare qualcosa sì assolutamente sì possiamo occuparci del rimodellamento della cromatina possiamo incominciare a parlare di software epigenetico perché se è vero che l'epigenetica studia come l'età e l'esposizione ai fattori ambientali tra cui agenti fisici e chimici dieta attività fisica io dico se conosci l'epigenetica oggi non solo puoi studiare ma puoi prevenire puoi incominciare a lavorare effettivamente sulla prevenzione primaria e probabilmente preprimaria nella salute dei padri e delle madri prima del concepimento e durante i primi e duemila giorni di lì altro studio sull'esposoma e sui danni a livello cardiovascolare e quindi tutte queste sono cose che se voi volete sono a vostra disposizione ecco che l'S Drive ci permette di capire questi indicatori epigenetici e allora a volte qualcuno dice cosa devo dire a una persona che molte persone fanno il test dovete dire queste cose alle persone che si avvicinano a voi dovete fargli capire che oggi avete uno strumento così straordinario per capire mappare quello che danneggia le cellule quello che è la salute delle cellule che è diventato indispensabile a meno che non ci sia un altro sistema ma fino ad oggi non conosco un altro sistema così importante perché per fare il profilo della metabolomica oggi facendo tutti questi test siamo dai 1500 ai 2500 io dico che noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione quindi di conoscere quei fattori che a livello della metabolomica causano il problema dei metaboliti fanno poi mappare i metaboliti ma qual è la causa l'impatto ambientale le carenze lo stress e l'intestino qual è la causa noi oggi grazie all'S-Drive possiamo conoscere i fattori che ci proteggono e i fattori che ci mettono a rischio a cominciare la remitilazione del DNA il controllo dell'omocisteina perché so se mi manca una B6 i folati o la B12 e quindi capire se ha bisogno di metionina e quindi posso fare tutti i collegamenti con il fegato con il mitocondrio con il drenaggio con l'intossicazione con i metalli che poi alla fine servono come antagonisti e come sapete i minerali lavorano in sinergia e in antagonismo anche nei confronti dei metalli pesanti e guardate cosa ci dice il premio Nobel alla medicina la Blackman ce lo dice chiaro tutti questi fattori dallo stress cronico la depressione l'inquinamento l'obesità le carenze accorciano i telomeri già nella pancia della madre perché noi stiamo sprogrammando la vita dentro la pancia della madre il fumo io la metto questa perché anzi facciamo un minuto di silenzio per chi continua a fumare e a chi dice si dai in gravidanza almeno 4-5 sigarette se non vuoi che non smettere si dai fumare perché se no vai sotto stress incominciamo a fargli vedere queste foto ringrazio e do il benvenuto anche alla professoressa Feno magari dopo se riusciamo vorrei dargli anche la parola perché la professoressa Feno come sapete grazie a Pintori all'Università di Sassari stiamo lavorando con lei questo meraviglioso progetto e il test S-Drive è entrato in questo progetto della longevità dove stiamo già mappando a perda di fuoco i centenari quindi è un dispositivo veramente straordinario unico al mondo che consente di raccogliere e straporare una quantità notevole di dati che poi uno gli serve per la statistica il medico e il professionista gli serve per migliorare la NAMES siamo entrati anche in un progetto importante dei medici di famiglia delle COS 4.000 medici di famiglia che come vedete nella loro slides hanno inserito gli indicatori epigenetici al nostro dispositivo proprio per la prevenzione dei fattori di rischio e questa permettetemi di dire che è emozione soddisfazione orgoglio perché sette anni fa insomma questo ad alcuni sembrava impossibile e io a me no perché sapevo cosa avevo fatto l'avevo provato su di me sapevo che questo strumento ci poteva veramente dare una grande mano soprattutto ai professionisti guardate ancora è entrato qui nell'elenco questo test epigenetici per la valutazione e l'impatto ambientale questo è il presidente del COS quindi c'è un aumento delle malattie soprattutto per i bambini cosa stiamo facendo per risolverli che strumenti avete a disposizione per risolverli la terosclerosi è una malattia epigenetica anche in età pediatrica ma se l'epigenetica abbiamo detto che è dovuta a tutti questi fattori cosa stiamo facendo per evitare che i fattori modificano l'mRNA dobbiamo fare l'indagine sull'mRNA per vedere che il fumo ha modificato l'mRNA o dobbiamo incominciare a dire questo ti fa male basta questo ti serve la dieta l'ambiente lo stile di vita i pensieri le emozioni ecco l'epigenetica cominciare dal fatto che stiamo utilizzando i cellulari come babysitter stiamo sprogrammando la vita il cervello dei nostri bambini aumento avete visto da 1,36 l'autismo perché iniziano a vivere qui dentro e questo non è compatibile con la vita soprattutto di questi bambini soprattutto per i sette anni di vita dovremmo togliere wifi cellulari dovremmo cominciare a ritornare alla natura queste sono le linee guida europea 2016 stanno dicendo attenzione stiamo diventando elettrosensibili e con sensibilità chimica mutua questo è uno studio pubblicato importante se volete fartegli una foto questo è uno studio veramente importante che ci dice che tutto quello che vi ho detto sta aumentando lo stress nitrosativo ossidativo danno ai mitocondri infiammazione malattica allora ecco perché io continuo a divulgare questo straordinario progetto e questo straordinario strumento che può veramente aiutarsi a migliorare la qualità della vita delle persone con report personalizzati specifici questo è il sistema immunitario abbiamo quello per il metabolismo abbiamo i bambini child and baby abbiamo per gli sportivi abbiamo il report per l'invecchiamento per l'età estetica per il benessere per capelli per le unghie abbiamo il report per cani e gatti per avere usato anche in veterinaria e capire subito il sistema dove andare a lavorare e questo ve lo spiegherà il grande dottor marco stento quindi iniziare a sapere cosa fare per le disfunzioni mitocondriali per la cellula ricaricare le batterie mitocondriali lavorare sulla corretta ossigenazione sui modulatori fisiologici sapete self food è uno dei prodotti più potenti al mondo per ossigenare le cellule e quindi di incominciare a diventare saggi per una medicina personalizzata predittiva preventiva partecipativa ecco l'epigenetica l'epigenetica oggi utilizza anche la biofisica se utilizziamo questi strumenti infernali come biofisica per farci del male e non ci chiediamo ma come funziona il cellulare nessuno se lo chiede però lo utilizza per chiamare dall'altra parte del mondo poi dal divano schiaccia un pulsante per girare il canale per cambiare il canale per la televisione o vi alzate e andate a schiacciare un pulsante alla televisione o girare la manovella come facevate una volta non è così e pensate un po' quando si parlava di per i Nokia chi aveva un Nokia chi aveva un Motorola dicevano che arrivavano i smartphone e loro insistevano a utilizzare i cellulari di vecchia generazione a non cambiare paradigma oggi quelle aziende non ci sono più stiamo parlando oggi di intelligenza artificiale noi oggi utilizziamo l'intelligenza artificiale applicata all'epigenetica ma già lo stiamo facendo in tutti gli ospedali la risonanza magnetica è un test biofisico che va in risonanza con gli ioni idrogeni addirittura poi si fa l'ecocardiogramma è quantistica è biofisica come l'elettrocardiogramma come questi strumenti infernali allora la tecnologia S-Drive legge lo spettro di frequenza dall'ultravioletta all'infrarosso e grazie a questa tecnologia noi utilizziamo il bulbo del capello che è in grado di archiviare tutte queste informazioni il bulbo del capello ormai lo sapete viene usato per l'esposoma per capire se una persona è esposta alle sostanze chimiche viene utilizzato dalla NASA viene utilizzato addirittura per i disturbi psichiatrici addirittura per il cortisolo e biomarker più affidabile viene utilizzato messo in questo dispositivo per capire cosa fare e soprattutto mappare 800 800 marcatori ci dà una priorità di intervento vi dico per i nuovi che per mettere a punto questa tecnologia ci sono valuti 15 anni quindi pensate che lavoro che investimento enorme è in 75 paesi nel mondo è stato lanciato poi nel 2016 e poi io l'ho conosciuto nel 2017 e poi la storia per alcuni di voi è chiara tutti i certificati compreso l'FDA che ci dice che noi possiamo dire che non è uno strumento di diagnosi la diagnosi la fa il medico al di là nessuno strumento di diagnosi la prognosi è del medico quindi promuovere la buona salute promuovere un stile di vita sano motivare incoraggiare sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere penso che questo sia già abbastanza di quello che possiamo fare con questo strumento e capire quale sfide si aspettano a livello ambientale indicatori a livello gas e resistenza danni ambientali perché perché il meccanismo epigenetico è reversibile e allora dobbiamo unire le forze creare cultura fare informazioni perché prevenire è meglio che curare ma se prevenire è meglio curare non deve rimanere una parola deve diventare un fatto la genetica scrive a penna l'epigenetica scrive a matita vi lascio con questo messaggio sono stato nei tempi sì 20 e 30 perfetti mai successo perché la vita senza amore non ha assolutamente senso e allora l'amore per quello che abbiamo detto per il futuro dei nostri figli delle future generazioni dobbiamo agire e fare presto grazie veramente di cuore a tutti voi prima di presentare Marco Stanton a Simona Nava voglio farvi vedere per i nuovi solo una cosa semplice che è questa questo è il software della tecnologia S-Drive e questo è il dispositivo S-Drive per chi è nuovo che è ancora usato poco o inizia adesso a utilizzare l'S-Drive dovete utilizzare l'S-Drive a distanza di filo dal computer intorno all'S-Drive non ci va nessun tipo di metallo o cellulare eccetera e poi alcuni di voi hanno già visto i video di come si fa il test e questo è il software software molto semplice basta cliccare su nuovo accettare la privacy addirittura per chi vuole può far firmare consenso informato e inserire tutti i dati quello che chiede i dati sensibili della persona più la data di nascita naturalmente per la privacy vi dico che nessun test nessun scusate nessun dato viene inviato da nessuna parte rimane nel computer viene inviato ad Hamburgo solamente un codice con le iniziali nome e cognome tutto il resto rimane nel computer che poi si riallaccia al computer quando rientra quando rientra il report arriverà sotto cronologia vi faccio vedere se io scrivo qui qui si ricerca con il nome del cognome la persona uno a caso prendo terziani vedete qui ci sono tutti già i dati quindi quando viene la seconda volta non serve riscrivere tutto basta richiamarlo su ricerca clienti su cronologia ho tutti i test che ha fatto la persona e basta cliccare due volte si apre il report oppure si può cercare da report non visualizzato visualizzato e su visualizzato avete l'elenco di tutti i test che avete fatto io l'ho fatti qualcuno come vedete qualche centinaio e potete aprirlo potete poi inviarlo dal report invia al cliente perché lo potete lo mandate se lo vuole solo dopo averlo naturalmente interpretato mettete qui le mail della persona oppure mettete un'email se volete una consulenza di qualche di qualcuno del nostro comitato scientifico per dare le prime volte ecco qui penso che sia stato nei tempi 20 e 35 una cosa meravigliosa vi assicuro ma è successo eccomi Simona presente benvenuta e ti ho citato grazie 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 tante volte oltre che ringraziarti di cuore per per la tua meravigliosa presenza supporto e aiuto grazie di cuore figurati devo dire che sono molto contenta perché quello che stai facendo tu insieme un po' anche a tutti noi è davvero notevole però un po' le cose si stanno si stanno muovendo non so se avete visto ieri presa diretta era tutto su Pifas su Pifas l'altro giorno c'era una bella puntata di medicina 33 sul bisphenolo cioè sulla plastica in allattamento cioè iniziamo proprio a divulgare eh sì dai ci vuole grazie per tutto il lavoro che fai che sei sempre in prima linea insomma da quando ci siamo mossi con la nostra scuola di alta formazione dell'epigenetica è cambiato tanto per tanti e quindi sono onorato di questa tua presenza partecipazione e collaborazione e per quello che fai grazie a te